Tu mi devi credere, guardi, io tengo un'ammirazione per quegli uomini che in casa fanno il loro ruolo, si fanno rispettare, non che l'ho mandato a comandare per dittatura, ma amore di Dio, ma lo sa, l'ho mandato per tu, la parola dell'uomo non ha dato la rete, capito? L'uomo ha dato la strada, ecco. Io per esempio, tu non ci crederai, ma io non mi posso proprio lamentare. Scusi, ma tua moglie come cucina? Non mi posso lamentare. E le camicie come le stile? Non mi posso lamentare. E sessualmente? Allora, non mi posso lamentare. Eh, ma allora che buco. Non mi posso lamentare, se non che lui mi abbia fai ammazzato, eh tu? Scusate, non mi riuscite niente, ma è solo facile, penso che sono attaccato con una rastica proprio a cacchio, la trovare. Non avete paura, l'onestità prima di tutto, cosa? Passaggio, tu vado ieri. Grazie. E' elastico io. Signorina, gentilmente, è vero che sono il cameriere dell'hotel e che sta già facendo, è nanzi a rete, ma un po' di comprensione pure per me, che fa il cuore che si spacca non mi prende a mano, gentilmente, decidete quello che volete e io vengo l'ultima volta, perché non tanto voi, non tanto il signor, ma il giovinotto, l'ho, come stava andando a nanzi a rete, ma io ho gelato, e ora ho caffè, e ora ho chiesa, e ora ho chiesa, e ora ho chiesa, e ora ho chiesa, decidete, vieni, va bene? Vado e vengo. E' questa è la figura che mi fai fatto, insomma, in casa la famiglia l'unica come serio è un'occheca, chi è bene o male pure è femminile, ma perlomeno non si è niente. E' perché è valutato che si è avvaletto, capito? Ma che è avvaletto è valetto, è la figura che mi fai fatto, e visto a chi è giovane, non ti ha proprio dignità, non ti contegna, vai a fermo, non lo chiamano, vuoi farmi o no? Vagabazio. No, tu le ha a farmi, non mi fa fare brutte figure, hanno un albergo per me e le ha a farmi. Troppo bello, stiamo andando, stiamo andando, oggi, oggi metti il canto, se non vuoi, poco arrivo tu. E' per il mio parlo, che brutta è la figura. Fatti zitti, fallò, ma tu. Ma ora, se non vuoi, mi sono l'occhio, se non stai in, cameriere, 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 mamma mia, si mi chiammarà da volta, ti rompo il culo. Cameriere, 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 cameriere! Tutto l'uomo nella parte se ne violentiamo, tutta la femmina è nata parte sull'iccinimma. No, signore, mamma mia, mamma mia, tutto l'uomo nella parte se ne violentiamo, tutta la femmina è nata parte sull'iccinimma. Ma è tutto il contrario, l'uomo nei sparami nel femmina è violentiamo. Ah no, è quello che ti dice, mamma mia. Ah, ma che rega stai così morto, ma che assata? Ti ha fatto un uainino. Sata? Gli tengo tre figli, tu lo sai? Eh, ma è su, i figli sono benedizione di Dio. Però, però le fa raccampare, le fa mangiare. Le mangiano tre, le mangiano quante, le mangiano quante, le mangiano cinque. Tanta zitta che hai fatto amore con la moglie, ma. Ho sbagliato qualche riguardo quando è, come si dice, quando è femmina? Quando mi avevi detto, quando è feconto e quando non è feconto. Bravo, ho sbagliato il metodo ogino-clausi, insomma, la moglie mi ha incitato una volta. Aspetto un quarto figlio. E che ha senso, ogino-clausi? E' un metodo anticoncezionale, ogino-clausi. Ah, insomma, la moglie ti ha preso un'altra volta. Eh, diciamo così, come a cavallo. Ma quello, guarda, quello il sistema più sicuro è sempre quello del riservativo, come si chiama? E' un presentativo. No, quella cosa, come si chiama? Profilattico. Profilattico. Quello è il più sicuro. Eppure, non c'è un cucchiaio. Oh, nonno, come sono? Eh, penso che la farmacia che ha fatto, la farmacia Gaudiana si ha. Eh. La farmacia Gaudiana, siate là, non ho comprato mai i preservativi là. Perché? Perché sono tutto bucato, si bucano sempre. E' vero, a me si piegano pure. Oh, no, no, no! E tu l'hai fermata un po' questa mattina. E l'hai chiamata il Lupagnino scenda mila volte. Ma che mi hai domandaciù? Dio stesso quanto tempo ci sono arrivato a loco! E beh. E lui? Ho fermato un po' ma non direi più niente di registra. Lascio io, fai la faticare. Bagnino Mamma mia Bagnino Bagnino Sotto la sabbia che cosa c'è? Signore avete visto anche la domanda della sabbia Sotto la sabbia che c'è? C'è la sabbia E sotto la sabbia della sabbia? Ancora E c'è sempre la sabbia E sotto la sabbia della sabbia della sabbia della sabbia? Sempre la sabbia E sotto la sabbia della sabbia della sabbia della sabbia? Oh cazzo A me una bala